Una giornata sicuramente fredda, la partita c'erano pochi gradi, le condizioni erano abbastanza pesanti, abbiamo fatto tutti fatica abbastanza nel singolo tranne Flavio, però poi abbiamo giocato molto bene i due doppi, quindi siamo soddisfatti, è una bella giornata. Io nel mio piccolo ho cercato di aiutarli da fuori, sostenendoli sempre, sono stati bravi, sono impegnati come al solito, non mi ha dato il 100%, quindi vanno dalla grande, quindi va bene. Sicuramente giocare in casa è un grande vantaggio, quindi ci siamo impegnati nel girone proprio per arrivare, per fare più punti possibili, proprio per giocare il ritorno in casa, è un piacere giocare e niente, ci divertiamo. Anche con i soci abbiamo un bel rapporto, negli anni è maturato un bel rapporto, anche tra la squadra, così è un grande rapporto, siamo tutti amici, quindi anche questo secondo me è importante per le vittorie che abbiamo fatto. A Forte dei Manni ci abbiamo giocato svariate volte negli ultimi anni, non su quella superficie, sarà una finale difficile perché bene o male si adatteranno bene tutti a quella superficie così veloce, e niente, proveremo a dare il meglio e a portare a casa il titolo. Sì, loro hanno una grande squadra, hanno due giocatori come Struff e Viola che amano giocare su quei campi lì, quindi si adattano molto bene, anche sono una squadra molto compatta, non hanno magari picchi altissimi, però sono molto equilibrati, quindi sarà una finale molto equilibrata e tosta. Siamo una squadra unita, ripeto, abbiamo voglia di rivincere e proveremo a farlo a tutti i costi come l'anno scorso avendo vinto al SuperTaddle, tutti i ultimi gol per gli Spareggio. Io anche darò il mio massimo anche da fuori, quindi sono sicuro che loro daranno il 100% di questa squadra, perché so che sono molto legati a questo circolo e alla squadra, quindi su questo sicuramente non avremo problemi. Grazie. 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 Grazie.